Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Zombie World, edizione italiana che vedete qui davanti a cura di Pendragon che io ringrazio immensamente di cuore per averci offerto questa copia per la recensione. Grazie, è sempre un grandissimo piacere e un onore collaborare con voi. Si parla di apocalisse zombie, si parla di un gioco di ruolo di carte e si torna soprattutto a parlare di un panorama che a me piace da morire perché chi mi segue da un po' di tempo lo sa, ci ho scritto anche un romanzo che tra l'altro ha venduto un po' di copie ma ha reso abbastanza contento su Amazon quindi è un argomento che mi piace veramente da morire. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Zombie World, edizione italiana a cura di Pendragon, come detto è un gioco di ruolo di carte ed è un tipo di gioco che sinceramente non avevo ancora mai provato. Avevo sentito parlare di qualcosa di simile che ci s'avvisionasse abbastanza perché sono tanti i giochi da tavolo, prima fra tutti volendo anche un Descent ma perché no anche un Hero Quest, dove si cerca di buttarci una componente gioco di ruolo o ad esempio For Against Darkness, quello che mi viene in mente di MS Edizioni e sono giochi che cercano di fondere, un po' comunque avvicinare prendendo da un bacione d'utenza immenso, giocatori di ruolo storici al gioco da tavolo o ad esempio le case della follia con l'app e tutto quanto ma questo è proprio un vero e proprio gioco di ruolo infatti più che un gioco da tavolo, questo qui piccolino, questa scatolina ma ricca poi alla fin fine di contenuti, è un gioco di ruolo con carte che sono carte fato carte eventi, carte azione, mazzo dei sopravvissuti, mazzo delle enclave, mazzo dei morsi e delle zombie quindi comunque tutto quello che succede lo dovete andare a pescare qui dentro ricorda un po' molto da lontano Sine Requie che io adoro della Serpentarium dove si vanno a pescare carte, carte che poi dopo danno un risultato sull'azione ora, qui non c'è una vera e propria tiro caratteristica contro caratteristica qui c'è soltanto da andare a pescare carte a seconda della caratteristica che hai e poi andarle a interpretare fondamentalmente è il Dungeon Master che crea la storia perché sì, in questo gioco c'è un Dungeon Master e dei giocatori vi spiego un po' come funziona, ma prima di tutto, unboxing confezione del gioco, è veramente piccolina, guardate rispetto alla mano però, come ve l'ho detto, fondamentalmente è un gioco di carte quindi non ha bisogno di tantissimo materiale a parte le plancette che ci sono dentro un gioco da 3 a 9 giocatori e tarda i 17 in su perché l'argomento che si va a trattare, insomma, è un po' truce non è un gioco per ridere, fatto o burlone e cose del genere tanto meno grottesco apriamo manuale di gioco piccolino, nel senso come dimensioni però bello corposo perché ve l'ho detto ci sono un pochino di cose da tenere a mente e ci sono un po' di regole vedete, le mosse hanno il loro capitolo poi soprattutto ci sono anche confidarsi per rivelare carte del passato di un personaggio mosse base tipo di danni che si può subire e quant'altro quindi comunque secondo me almeno una partitella serve una partitella per rodare e capire un po' poi ci sono qua giù le mosse base che sono quelle che possono fare i giocatori quindi non vi preoccupate se ce ne sono tante tanto fondamentalmente basta leggere pescare per la caratteristica che andate ad utilizzare e poi vedete, che ne so, con un colpito succede questo con un successo critico invece fate questo più potete fare una di queste scelte qui sotto il gioco ragazzi è veramente facile e tutto quello che serve da sapere è sempre segnato su queste schede poi plancia del giocatore dove si mettono i punti stress e quando si arriva qua giù in fondo si prende una nuova carta trauma le caratteristiche che mettete all'inizio le carte passato presente e trauma che dovete scoprire piano piano e poi vabbè tutte le cose cdr tipo equipaggiamento nome del personaggio i tuoi alleati e quant'altro sotto abbiamo un pennarellino con la gomma per cancellare perché dovete andare a scrivere direttamente sulle schede non vi preoccupate non rovinate niente sono fatte apposta e poi si cancella direttamente e poi ci sono tutte quante le carte i mazzi abitanti i mazzi sopravvissuti e di qua ci sono a parte le carte equipaggiamento morso degli zombie e tutto ci sono anche le carte trauma come detto è un gioco di carte io vi consiglio almeno tre giocatori si può giocare anche in due però visto che uno è sempre dungeon master che crea la storia insomma giocare con soltanto un altro giocatore è un po' poco quindi almeno tre però potete giocare anche in due tranquillamente non è un gioco cooperativo dovete inizialmente prendere la scheda nella scatola base poi future espansioni la amplieranno ci sono due enclavi in cui scegliere la propria base tipo c'è la prigione quindi è quella il nostro quartier generale un po' come visto in The Walking Dead in tutte le serie zombie insomma il quartier generale da cui partirete ad esplorare il mondo e vengono fatti dei mazzi superstiti dei mazzi dei mazzi scusate con delle mosse all'interno e poi c'è un mazzo dei morsi che serve quando succede qualcosa di negativo si va a pescare delle carte in mezzo a queste carte ce n'è una soltanto che segna morso quando esce la carta morso siete stati morsi da uno zombie e in questo gioco il morso degli zombie ti infetta quindi il tuo personaggio andrà non sempre poi si può cambiare la storia però se ti hanno morso al collo al petto nel 99,9 periodico per cento dei casi andrete a morire quindi quando viene pescato la carta morso o una ferita superficiale ti fa una mano quindi ti viene amputata se no comunque porterà verso la morte e è un gioco veloce ci sono fondamentalmente quattro caratteristiche in cui all'inizio dovete dividere un punteggio che sono di solito 3,2,2,1 ad esempio se volete un personaggio che sa sopravvivere bene quel 3 lo mettete a sopravvivenza se volete un personaggio che combatte ed è molto forte magari lo mettete invece a ferocia ad esempio quando volete fare un'azione d'attacco che richiede ferocia guardate il valore che avete sulla caratteristica pescate tot carte dal mazzo dei sopravvissuti ad esempio se ci avete 1 pescate una carta se ci avete 3 ne pescate 3 e ovviamente salvo bonus o malus più 1 o meno 1 che giocate più o meno carte pescate di quelle che escono scegliete voi magari esce un fallimento un colpito e un colpito critico eccezionale quindi voi dite ok levo gli altri due mi tengo il colpito critico eccezionale e magari nel combattimento contro gli zombie avete sfoltito le fila delle zombie oppure se esce un fallimento mezzo e mezzo potrebbe essere non siete arrivati vicino a subire dei danni però la vostra la vostra azione è finita male in più gli altri giocatori possono provare a darvi una mano rimarvi contro perché comunque è un gioco ve l'ho detto si cooperativo siamo tutti alla stessa parte però potete anche giocare niente ve lo vieta come gruppo che cerca magari qualcuno vuole prendere il sopravvento oppure rovinare i piani al vostro personaggio per quanto fate parte dello stesso gruppo della stessa enclave come vi ho detto principalmente quindi se uno ti da una mano va a pescare tante carte quanto sono le tue carte storia scoperte perché nel gioco abbiamo delle carte passato delle carte presente e una carta trauma all'inizio del gioco soltanto le carte presente vengono rivelate perché è quello che tutti sanno di voi ma del vostro passato nessuno sa niente tanto meno del vostro trauma quindi quando qualcuno vi vuole dare una mano pesca tante carte dal mazzo sopravvissuto per quanto sa di voi se c'è una carta sulla rivelata ne pesca una e si prende un punto stress però se voi avete fatto tre fallimenti e lui fa un colpito lui con quel colpito vi aiuta almeno che non mi remi contro perché se invece vi voglio remare contro quel colpito lo fa per rovinarvi l'azione e magari farvi dei danni quando si fanno queste azioni si prendono punti stress e arrivate a tot punti stress sulla scheda del personaggio si sblocca di solito dopo quattro si sblocca un nuovo trauma quando si arriva a aver sbloccato tre o quattro traumi o una cosa del genere il vostro personaggio è totalmente impazzito e diventa un NPC quindi comunque è un gioco di narrazione è un Dungeon and Dragons è un gioco di ruolo non vi fate fregare è un gioco di ruolo con carte dove sono le carte che fanno un po' da fate cose del genere però la base è un gioco di ruolo infatti ci dà la variante single shot o la variante campagna ragazzi è veramente molto interessante in conclusione è un gioco assolutamente per tutti è un gioco per neofiti va bene però forse gente che c'ha già un pochino di esperienza nei giochi di ruolo ma non per altro perché la narrazione è importante ma soprattutto per il fatto che ci sono diverse azioni da tenere a mente sempre riportate sulle schede non vi preoccupate non ci sarà mai qualcosa cosa potevo fare con i punti stress oppure se esce un colpito con una prova di ferocia cosa succedeva no c'è la scheda ce l'hai scritto quindi leggi e vedi direttamente però comunque ecco non è un D&D tiro per colpire l'ho colpito colpito tiro per i danni no qui no qui è tutta interpretazione e quindi per sapere se ho subito una ferita critica ho subito una ferita leggera c'è un pochino da rodare ecco mettiamola così c'è da farci qualche partita ma comunque il titolo è velocissimo alla portata di tutti è fatto con l'idea Romero da una parte The Walking Dead dall'altra quindi è per tutti i fanatici del gioco di ruolo appunto in ambientazione Apocalisse e Zombie e poi una vera e propria ambientazione non c'è l'ambientazione te la crei te lo puoi ambientare dove ti pare non c'è un'ambientazione inventati un Apocalisse e Zombie anche con i mostri anche i mostri che vai a creare i tipi di zombie te li puoi creare te quindi salvo future espansioni ti dà liberissima scelta alla fantasia libero spazio alla fantasia alla creatività quindi io ringrazio Pendragon per averci offerto questa copia per le recensioni se lo volete ordinare primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla gioco libreria Semola al miglior prezzo sul mercato e mi raccomando se lo trovate in lista ma è finito oppure se cercate sul sito della gioco libreria Semola e non c'è in lista scrivete al supporto e in ogni caso usate facendo presente che arrivate dal mio canale se si può trovare e ordinare anche se non ce l'è in lista o è finito e sempre usate il codice sconto Corridan7 scritto tutto maiuscolo perché avrete subito discount e uno sconto pari al 7% e spese postali gratis in 48 ore in tutta Europa se superate 79 euro di spesa quindi mi raccomando se non lo trovate contattate privatamente al supporto ragazzi che dire è veramente un titolo molto interessante e ci farò tantissime partite ciao alla prossima ciao a tutti